Va in archivio dallo scorso weekend anche la terza giornata dei campionati regionali di volley maschile e femminile. La C maschile a Missima Assicurazione Pellico vince 3-0 il derby con la Quadrifoglio Porto Torres. Una gara molto equilibrata dove i ragazzi di coach Andrea e Enrico sono riusciti a prevalere grazie a un buon servizio e ad un'attenta difesa. La quarta giornata si disputerà in trasferta sabato prossimo 18 novembre in casa di un'altra società storica del volley isolano, l'Aquila di Cagliari. La di maschile ristorante e pizzeria Speedhead Pellico ha cedito ancora una volta ai più esperti i villaspeciosa, ma nella gara ha mostrato progressi ai giovanissimi, soprattutto nel servizio e nell'organizzazione del gioco. La quarta giornata si disputerà sabato prossimo 18 novembre tra le Muramiche di Via dei Milla 19 contro il Gonnesa. Infine la serie di femminile giocherà la quarta gara in trasferta a Nuoro.